Io adesso, questo è uno strumento con cui ormai convivo, perché alla fine la devo... Perché te la misuri molto spesso? Sì, la misuro spesso perché poi mi hanno dato anche un po' di cure per questo problema. Tipo, vedi, adesso ce l'ho normale, 85-119. 85 di minima e 100 di minima di massimo. Sì, che è un valore buono. Buono, ecco, perché sei venuto a parlarci di questa cosa oggi? Cosa hai iniziato a fare? Perché in realtà io, guardando questo grafico, c'è stata una volta in cui l'ho messo verticale, no? E ho notato che tu guardi per dirti questa parte qua, no? Sì, sembra... Che ti ricorda? Sì, sembrano un po' delle montagne, un naso. Sì, però... Sì, possono sembrare delle facce. Sì, possono sembrare delle facce. Praticamente sembrano dei profili. Sì. E io ho detto, ma io posso trasformare questo mio problema di salute in un'arte? E la risposta è stata? E la risposta è stata, ci provo, sì. E ho inventato questa tecnica che si chiama ritratti a pressione. Vogliamo...